Ed era dunque il terzo premio, Simone Ximenzu dalla Germania che ci ha fatto ascoltare di Sergei Prokofiev, il concerto numero 2 in sol minore opera 63 nel movimento allegro moderato. Risaliamo ancora, arriviamo adesso al secondo premio, abbiamo Howich Elders, Francia, da lei ascolteremo di Benjamin Britten il concerto in re minore opera 15, Passacaglia, andante lento. Howich Elders. Il studio ovviamente qui avevo scritto Francia e evidentemente c'era un refuso nel programma e quindi vi corrego, viene dall'Olanda, buon ascolto. Grazie. 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 Grazie.